benvenuti nella mia cucina quest'oggi risponderò alle domande più frequenti che mi capita di ascoltare su lievito madre tantissime persone alle quali ho insegnato a fare il lievito oppure anche quando mi capita di navigare in rete vedo che ci sono un sacco di dubbi circa le farine circa il tempo di lievitazione insomma a tutte queste domande io cercherò di dare una risposta oggi e sono qui in compagnia del mio valentino questo lievito è nato un anno e mezzo fa esattamente a gennaio 2019 e da allora mi sta dando una grandissima soddisfazione perché veramente faccio non ho più comprato il pane faccio il pane ogni settimana faccio la pizza ci faccio un sacco di cose buonissime allora vi dico una cosa veloce veloce prima di iniziare si chiama valentino anche voi date un nome al vostro creaturo e dovreste dargli il vostro nome se l'avete voi creato da zero e questo perché perché c'è questa tradizione antichissima secondo la quale bisognerebbe dare al lievito il nome della mamma cioè di chi o del papà insomma di chi lo produce perché ogni volta che ne regalate un pezzo a qualcuno di lievito e quindi questo lievito ricomincia ad essere usato in un'altra casa queste persone utilizzando il vostro lievito con il vostro nome si ricorderanno di voi inoltre questo lievito anticamente veniva tramandato di generazione in generazione e così conservando il nome della nonna o il nome della bisnonna i suoi i suoi parenti insomma le sue generazioni successive si sarebbero per sempre ricordati di lei e quindi date al lievito il vostro nome questo si chiama valentino piacere e adesso risponderò alle vostre domande la prima domanda alla quale voglio rispondere a quale quale farina è più adatta per rinfrescare il lievito madre allora potete sia partire con il lievito madre che rinfrescarlo successivamente utilizzando le farine 001 2 integrale ok queste sono le farine più adatte quelle che io vi consiglio sono sicuramente la 0 e la numero 1 una farina molto integrale si può utilizzare però lievita con più difficoltà perché c'è meno glutine dentro allo stesso modo vi sconsiglio una farina 00 che è molto raffinata perché come sappiamo non è molto salutare per il nostro organismo e quindi io ve la sconsiglio poi ovviamente la scelta è vostra andiamo a quest'altra domanda posso cambiare la farina sì allora se voi avete creato il vostro lievito madre per esempio con una farina numero 1 e adesso non la trovate oppure l'avete finita oppure volete passare ad una farina 0 voi potete cambiarla ma la cosa importante è cambiarla in maniera graduale l'ideale per il lievito sarebbe utilizzare sempre la stessa farina ok se voi dovete cambiarla nel rinfresco successivo cioè quello in cui decidete di cambiarla fate 50% della nuova e 50% della vecchia e così nel rinfresco successivo potete usare tutta quella nuova e lui in maniera graduale si sarà abituato a questo cambio di farina vi dico anche una cosa anche se non fa parte di questa domanda e cioè quando voi fate un impasto se voi fate sempre il pane con la stessa farina dovreste usare quella per rinfrescare il lievito se non è così quando fate il rinfresco per fare il pane mettete una piccola parte della farina che userete dentro a questo rinfresco in modo che il lievito inizia ad abituarsi alla farina che dovrà far lievitare in quanto tempo raddoppia un lievito madre un lievito madre in buona salute mettiamolo così così lo vedete meglio un lievito madre in buona salute raddoppia in tre ore ok in tre o quattro ore poi ovviamente se siamo in estate quindi fa più caldo il lievito cresce prima se siamo in inverno il lievito cresce dopo se il vostro lievito non raddoppia più in questa tempistica quindi se ci mette 5 6 ore a raggiungere il doppio c'è qualche problema è diventato un pochino più debole e quindi va rinforzato in che modo facendo dei rinfreschi ravvicinati quindi se vedete che ci mette tantissimo tempo a raddoppiare dovete rinfrescarlo appena raddoppia quindi dopo le 5 ore per esempio ne fate subito un altro di rinfresco vedrete che raddoppierà dopo 4 se ne fate un altro subito dopo raddoppierà dopo 3 quindi facendo tanti rinfreschi ravvicinati voi ridate forza al vostro lievito madre che cosa succede se il mio lievito puzza di acido allora se il vostro lievito puzza di acido o anche se non raddoppia nelle ore giuste quindi sia un po' indebolito sia un po' inacidito che cosa dovete fare dovete fare il bagnetto al lievito madre per questa operazione io vi rimando ad un video sul mio canale youtube quindi andate a cercare nella playlist del mio canale dedicata a questo argomento il bagnetto del lievito madre così toglierete l'odore di acido e il vostro lievito ripartirà senza nessun problema quanto tempo prima devo tirare fuori il lievito per usarlo negli impasti dipende se siamo in istatio o inverno diciamo che in generale il lievito dovrebbe andare a temperatura ambiente prima di essere toccato quindi se sta in frigorifero lo tiriamo fuori in inverno lo teniamo un'oretta o due fuori dal frigo appena si sarà ambientato con la temperatura della casa possiamo rinfrescarlo se lo dobbiamo rimettere in frigo aspettiamo anche ancora un'oretta quindi facciamo partire la lievitazione di un dito dall'elastichetto che abbiamo messo e poi lo possiamo riporre in frigorifero ogni quanto va rinfrescato il lievito allora questa è una bella domanda che mi fanno tantissime persone allora il lievito andrebbe rinfrescato quando collassa allora questa qui è una risposta che va bene per tutti quindi voi osservate il vostro lievito in frigorifero o se sta fuori fuori dal frigo e quando inizia a collassare è ora di rinfrescarlo quindi il vostro lievito come sapete a un certo punto raddoppierà poi triplicherà poi addirittura diventerà cinque volte il suo volume se è proprio un lievito che sta in super forza e ad un certo punto si fermerà lì e poi inizierà a riscendere nel momento in cui comincia a scendere vuol dire che sta collassando e in quel momento va rinfrescato altrimenti sviluppa un odore acido e insomma non è bene per lui poverino diamogli la pappa ok inoltre inoltre dipende dal tipo di farina che voi state utilizzando perché perché se voi utilizzate una farina con le proteine basse il vostro lievito durerà pochi giorni in frigorifero e collasserà prima se usate una farina con le proteine alte il vostro lievito ci metterà molto più tempo a collassare faccio un esempio pratico io per la mia per il mio lievito sto usando una farina numero zero con nove di proteine ok le proteine quindi sono molto basse ogni tre giorni il lievito lo devo rinfrescare altrimenti collassa se io utilizzassi invece una farina con le proteine più alte tipo 13 di proteine per esempio una farina zero zero il lievito ci metterebbe cinque o sei giorni a collassare quindi lo possiamo rinfrescare ogni cinque giorni quindi anche in base a questo potete scegliere la farina per il rinfresco più adatta alle vostre esigenze se avete tempo libero potete rinfrescarlo ogni tre giorni se invece lavorate tanto insomma avete poco tempo per fare i rinfreschi scegliete una farina con le proteine alte in modo da poter allungare il tempo tra un rinfresco e l'altro come va usato il lievito madre negli impasti il lievito madre va tirato fuori dal frigo va bisogna aspettare un paio d'ore come abbiamo detto va rinfrescato il momento migliore per utilizzarlo nell'impasto è il momento esatto in cui raddoppia oppure tra il raddoppio e quando triplica quello lì al massimo il momento di massi fa forza del vostro lievito quindi voi lo tirate fuori dal frigo funziona così aspettate un po rinfrescate 100 grammi io almeno di solito rinfresco 100 grammi lo rimetto nel mio vasetto e quello lì è il lievito che tengo per me ok da quello che mi avanza vado a fare il rinfresco secondo le dosi che mi richiede la ricetta aspetto il raddoppio quindi aspetto più o meno tre o quattro ore non appena raggiungere il raddoppio è pronto per essere usato nell'impasto quindi lì si fa l'impasto posso anche aspettare una mezz'oretta in più quindi tra quando raddoppia e quando triplica però se comincia a superare questo livello no poi il lievito vuol dire che è andato in esubero quindi non avrà più la forza di far crescere il nostro impasto allora cosa possiamo fare con l'esubero se noi non dobbiamo questa settimana fare il pane perché ci ha avanzato perché non abbiamo tempo eccetera però dobbiamo per forza rinfrescare il nostro lievito avremo una parte di lievito che ci avanza quella lì si chiama esubero oppure vogliamo fare una ricetta rinfreschiamo il nostro lievito però nell'arco delle tre ore c'è un imprevisto quindi questo lievito che abbiamo rinfrescato non lo possiamo usare in quel momento e ci ritroviamo con una bella massa di lievito che non vogliamo buttare via per non per non sprecare la farina quello lì si chiama esubero e può essere usato nelle ricette adesso non sto qui a darvi tutte le ricette che possiamo fare con l'esubero però vi dico che troverete sul mio canale tantissime ricettine da fare con l'esubero del lievito madre che possono essere per esempio delle piadine dei taralli dei biscotti ci sono un sacco di piccole ricette da fare con il lievito così da non avere mai uno spreco allora se avete appena creato il vostro lievito madre e volete sapere quando comincia ad essere attivo e sano per essere utilizzato ve lo dico subito allora la tabella di marcia che io vi propongo nel mio canale è una tabella che dura otto giorni alla fine di questi otto giorni potete già iniziare ufficialmente il lievito è pronto voi per capire se è pronto dovete innanzitutto vedere se raddoppia in tre ore e poi se l'odore di acido è non troppo forte se non queste due cose non si verificano cioè se l'odore di acido è forte se non raddoppia ogni tre dopo tre ore dovete continuare a fare dei rinfreschi giornalieri finché non raggiungete il livello giusto cioè quindi finché non lo vedete raddoppiare in tre ore ok se invece raddoppia in tre ore senza nessun problema potete e non puzza troppo insomma che poi è brutto dire puzza poverino il suo profumo il suo odore un po acidello allora dovete potete iniziare ad utilizzarlo ci sono persone alle quali ho insegnato a fare il lievito che dopo una settimana hanno iniziato immediatamente a fare pane e pizza e hanno aggiunto risultati fantastici non vi nego che anche io impaziente come sono appena fatto il mio lievito dopo otto giorni immediatamente ho fatto il pane e però vi posso anche dire che il pane mi è venuto però non era buono come il pane che ho adesso quindi diciamo che un lievito appena creato inizia a dare dei risultati buoni dopo un mesetto dopo un mesetto di rinfreschi ok a quel punto comincerà ad essere accettabile ovviamente dopo sei mesi sarà perfetto dopo la prima settimana si funziona però il pane potrebbe avere un pochino di sentore di acido non è nulla che fa male per carità però non è proprio informissimo diciamo così però dopo otto giorni dopo fatta tutta la procedura che avete visto sul mio canale potete iniziare ad utilizzarlo se raddoppiano tre ore e se non ha un odore troppo forte di acido dove va conservato il nostro lievito dentro al frigo o fuori dal frigo allora se noi siamo fornai oppure se siamo persone con una famiglia numerosa e quindi facciamo il pane ogni giorno possiamo tenerlo serenamente in dispensa se invece questa condizione non si verifica cioè noi facciamo il pane una volta a settimana una volta ogni cinque giorni insomma se noi pensiamo di rinfrescare il lievito con un intervallo più lungo è bene tenere il nostro lievito in frigorifero perché in questo modo la levitazione rallenterà e ci metterà un po di più a collassare semplicemente per questo il freddo rallenta la maturazione del lievito quindi noi tenendolo in frigo lo possiamo rinfrescare dopo quattro cinque giorni se lo teniamo fuori dobbiamo rinfrescarlo ogni giorno altrimenti collassa e poi si inacidisce come si calcolano le percentuali di lievito in un impasto per esempio se noi dobbiamo fare le percentuali all'interno del lievito madre sono sempre le stesse cioè ci vuole una parte di lievito una parte di farina e mezza parte di acqua quindi la percentuale standard che di solito si fa per conservare il lievito in frigo è 100 grammi di lievito 100 grammi di farina 50 grammi di acqua ok potete fare 50 grammi di lievito 50 grammi di farina 25 di acqua quindi le percentuali sono sempre queste quindi vi semplifico se non siete geni della matematica ma comunque è facilissimo anche è molto intuitivo questa cosa però ve la dico perché spesso mi viene chiesto se in una ricetta per esempio ci dicono che occorrono 100 grammi di lievito rinfrescato che cosa vuol dire che dovete rinfrescare dovete prendere il vostro lievito madre dovete prendere 40 grammi di lievito 40 grammi di farina e 20 grammi di acqua quindi farete questo rinfresco con queste dosi in modo che il risultato finale sarà 100 grammi di lievito madre rinfrescato se la ricetta vi chiede un'altra dose fondamentalmente voi dovete prendere il numero che vi chiedono quindi quella quantità di lievito dividerlo per 5 il risultato quindi la quantità finale diviso 5 è la quantità di acqua ok la quantità di acqua per 2 sarà la quantità di farina e la stessa la stessa sarà di lievito madre ok quindi dividete per 5 la cifra quello lì è l'acqua che vi occorre per 2 la farina per 2 il lievito dovrà sempre essere comunque una parte di lievito una parte di farina e la metà di acqua questa è la proporzione corretta la risposta è no non scade il lievito madre se voi lo nutrite per bene se voi gli date sempre la pappa e lo tenete in buona salute non scade potete usarlo per tutta la vita darlo ai vostri figli ai vostri nipoti il lievito madre non ha una scadenza anzi più si invecchia e più diventa buono allora che cosa faccio se devo partire per 15 giorni allora voi siete in ospedale dovete fare un viaggio dovete lasciare la vostra casa per qualsiasi motivo e non potete rinfrescare il vostro lievito ok grosso problema perché lui ha bisogno di nutrimento allora il primo consiglio è cercate qualcuno che possa farlo al vostro posto quindi una mamma una vicina di casa un amico qualcuno ok se non avete nessuno a cui rivolgervi potrete le strade sono due allora potete congelarlo oppure potete fare un rinfresco al doppio o al triplo io vi posso dire che sono partita per più volte per 15 giorni lasciando il mio lievito rinfrescato con queste modalità in frigorifero e non è successo nulla non potete usare questo come prassi cioè non potete dire a allora se è possibile farlo io lo rinfrescherò sempre ogni 15 giorni così non ho la rottura di scatole no non va bene perché se lo lasciate 15 giorni comunque si inacidirà un pochino e quindi tornate a casa dovrete fare il bagnetto rinfreschere avvicinati per farlo un attimo riprendere se lo fate una volta all'anno due volte all'anno si può fare quindi se dovete partire fate un rinfresco al doppio che poi vi spiegherò in un video apposta sul mio canale e lo lasciate 15 giorni a casa quando tornerete lo troverete sicuramente lo troverete collassato ma sarà comunque vivo e quindi con un po di rianimazione lo potrete far riavere quindi non muore se partite 15 giorni non vi preoccupate allora qual è il contenitore ideale per conservare il lievito madre io vi consiglio di conservarlo in un barattolo di vetro perché il vetro è più sano della plastica semplicemente per questo e quale forma la forma più comoda per conservare il lievito è un contenitore di forma cilindrica perfetti sono questi qui quelli che sarebbero del frullatore ok perché sono a forma di cono scusate perché sono a forma di cilindro e non hanno l'imboccatura diciamo più stretta vi faccio vedere un contenitore perfetto che è questo per esempio un contenitore come questo qui è proprio perfetto ok perché è liscio potete infilare la mano e prendere il lievito senza problemi non ha il collo stretto la maggior parte dei barattoli che noi abbiamo a casa hanno invece il collo strettivo e per tirarlo fuori per pulire il barattolo è una cosa drammatica vi dico anche un'altra cosa anche se non è fra le domande il contenitore ogni volta che voi fate il rinfresco va lavato e va lavato solo con acqua calda quindi non usate saponi perché i microrganismi presenti dentro al lievito potrebbero subire qualche alterazione quindi usatelo solo lo lavate con acqua calda lo asciugate e rimettete rimettete dentro il vostro lievito molti mi chiedete se va sigillato allora su questo ci sono molte molte idee contrastanti ci sono alcune persone che lo tengono chiuso sigillato e non succede nulla altre persone come me per esempio invece lo conservano così non sigillato quindi o utilizzate un barattolo di vetro potete chiudere il barattolo con il suo d'acqua senza stringere a morte quindi lasciate uno spiraglietto ok io lo tengo coperto con uno straccio come vede con un centrino veramente perché ecco con un elastico oppure potete tenere la pellicola trasparente con un elastico che è sempre un modo non ermetico di chiuderlo quindi va benissimo e quindi niente per me no non va sigillato perché respira è vivo il nostro pupo è vivo quindi non lo facciamo soffocare come si crea lievito madre è una procedura non così tanto complicata che richiede un po di pazienza e un po di tempo ci vogliono circa otto giorni per crearlo da zero e c'è sul mio canale un video tutorial fatto appositamente per questo che vi spiega tutti quanti i passaggi e tutta la tabella di marcia quindi iniziando semplicemente con acqua farina un cucchiaino di miele e piano piano rinfrescandolo ogni giorno riuscirete nell'arco di dieci giorni ad avere un buon lievito madre attivo andate a cercare sul mio canale come creare lievito madre partendo da zero allora spero di aver risposto con questo video alla maggior parte delle domande che vi state facendo su lievito madre se ne avete se ne avete altre non esitate assolutamente a scrivermi a scrivere nei commenti le vostre domande oppure a contattarmi privatamente sui vari social se mi seguite su instagram su facebook eccetera e fatemi le vostre domande io risponderò a tutte quante senza nessun problema se questo video vi è stato utile per voi non dimenticatevi di mettere like di iscrivervi al canale e magari di accendere la campanellina così da essere sempre informati quando pubblico un nuovo video buoni impasti a tutti voi